Ognuno di noi, anche il peggiore di noi, ha una sua tridimensionalità, diciamo. E credo che almeno anche questo non me lo puoi togliere. Questo me lo consegno. E quindi, sai, insomma... Sì, è chiaro che la lotta di potere più diventa, parafrasando quello che prima diceva Riccardo sulla produzione cinematografica, che è la concorrenza, diciamo, rende migliori. Ecco, qui la concorrenza è sempre più pericolosa, sempre più raffinata, direi. Perché i ragazzi crescono, perché i concorrenti aumentano e ci sono molte evoluzioni. E quindi è chiaro che per tenere questo potere, direi, di Roma, così come viene soprannominato samurai, insomma, non c'è tempo per distrarsi.